George Washington è stato il primo presidente degli Stati Uniti d'America, servendo dal 1789 al 1797. È considerato uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, insieme a John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson e James Madison. Infanzia e gioventù Washington nacque il 22 febbraio 1732 a Popes Creek, in Virginia. Era il primo di sei figli di Augustine e Mary Ball Washington. Il padre di Washington era un piantatore di successo, e Washington ricevette un'istruzione di base, ma non frequentò il college. Dopo la morte del padre nel 1743, Washington ereditò una grande tenuta e iniziò a coltivare. Si interessò anche alla politica e fu eletto al Consiglio Provinciale della Virginia nel 1758, guerra franco-indiana. Nel 1754, Washington fu nominato colonnello del 33esimo reggimento della milizia della Virginia. Combatte nella guerra franco-indiana, che fu combattuta tra le colonie britanniche e le forze francesi e indiane per il controllo del Nord America. Washington si distinse nella battaglia di Jumonville e Glen, dove guidò un piccolo gruppo di soldati contro un distaccamento francese molto più numeroso. Guerra d'indipendenza americana. Nel 1775, le colonie americane si ribellarono contro il dominio britannico. Il Congresso continentale nominò Washington comandante in capo dell'esercito continentale. Washington guidò l'esercito americano alla vittoria nella guerra d'indipendenza americana, che si concluse nel 1783 con il Trattato di Parigi. George Washington nella guerra d'indipendenza americana. Presidenza. Dopo la guerra, Washington fu eletto primo presidente degli Stati Uniti d'America. Durante il suo mandato, Washington guidò la nazione nella sua transizione da colonia a repubblica. Ha anche aiutato a stabilire le istituzioni governative degli Stati Uniti, tra cui il Congresso, la Corte Suprema e il sistema giudiziario federale. Washington lasciò la presidenza nel 1797. Si ritirò a Mount Vernon, la sua tenuta in Virginia. Morì il 14 dicembre 1799, all'età di 67 anni. Eredità. George Washington è considerato una delle figure più importanti della storia americana. È stato un leader carismatico e un abile stratega militare. Ha guidato la nazione alla vittoria nella guerra d'indipendenza americana e ha contribuito a stabilire le basi per una Repubblica americana forte e prospera. Washington è anche considerato un simbolo di unità nazionale. È stato il primo presidente degli Stati Uniti, e il suo mandato è stato un periodo di crescita e prosperità per la nazione. La sua eredità è ancora viva oggi, e continua ad essere ammirato e rispettato come uno dei più grandi leader americani di tutti i tempi.